Per il Palermo sarà una sosta natalizia particolarmente complicata. Mister Eugenio Corini avrà l'arduo compito, insieme alla società, di riflettere sulle prossime mosse societarie e di mercato al fine di rimettere in piedi una stagione che vede al momento il rosanero terzultimo in classifica ed in crisi di risultati. Il patron Zamparini ha sottolineato che gli spunti per gennaio verranno concordati anche con l'allenatore. Il tecnico ha già dichiarato di aver bisogno di almeno 3-4 innesti obbligatori che possono dare sicurezza ad un organico troppe volte allo sbando con diversi problemi in termini di sicurezza e di qualità. Già il 7 gennaio arriverà una sfida decisiva sul campo dell'Empoli. La squadra toscana è proprio il team da raggiungere per i siciliani, per cui perdere a Castellani significherebbe compromettere in modo importante la lotta salvezza. In chiave mercato, in uscita per il Palermo, vi sono certamente Iliamark e Giancarlo González, mentre hanno richieste di mercato il difensore Goldaniga e l'estroso Robin Quaisson. Per rinforzare la difesa si pensa a Cesare Bovo del Torino e Diachite, attualmente svincolato. Due nomi a centrocampo. Quello più concreto risponde al nome di Cigarini, mentre il nome effetto è lo svincolato Bizarro. In avanti si sogna Maurizio Piniglia, ma quel che è certo è che il Palermo non può concedersi il lusso di sbagliare. In Palio c'è una salvezza da conquistare al più presto.